Si potrebbe sembrare fuori dalla linea del Sorrento Meeting il ragionamento che andiamo a fare oggi perché il Sorrento Meeting voi sapete che si è strutturato come uno spazio, noi l'abbiamo chiamato uno spazio di caos creativo pur non rinunciando al rigore scientifico, pur non rinunciando al rigore nelle sue elaborazioni tuttavia non siamo fuori dal tema generale del Sorrento Meeting affrontando le questioni che attengono la logistica che attengono le movimentazioni delle merci all'interno del Mediterraneo perché voi sapete che la movimentazione delle merci significa organizzazione del sistema economico e produttivo e noi abbiamo bisogno di mettere ordine nel nostro sistema economico e produttivo noi abbiamo bisogno anche di mettere l'uomo al centro del sistema economico, dello sviluppo del sistema economico lo abbiamo detto nelle passate edizioni del Sorrento Meeting, abbiamo bisogno anche di mettere il pianeta al centro del nostro ragionamento sullo sviluppo del sistema economico e ragionare di logistica significa ragionare anche in termini di compatibilità e di ecocompatibilità noi ci inseriamo all'interno di quella che è la strategia dell'Unione Europea la strategia cosiddetta 20-20-20 l'Unione Europea ha individuato appunto in queste cifre quelli che sono i traguardi che dobbiamo raggiungere nel 2020 ci dice l'Unione Europea noi dovremo avere il 20% di emissioni di gas serra in meno dovremo avere il 20% di energie rinnovabili in più costruite dovremo avere un efficientamento energetico del 20% in più tutto questo significa che noi abbiamo bisogno di mettere dell'ordine di mettere razionalità in quelli che sono i processi di sviluppo economico e ovviamente la logistica significa dare il senso della simmetria dare il senso dell'armonia al sistema economico e produttivo voi sapete che cosa significa la movimentazione delle merci sapete che cosa significa anche la movimentazione all'interno di un bacino come il Mediterraneo noi abbiamo bisogno di ragionare su quelle che sono le scelte fondamentali che dobbiamo compiere in questi prossimi anni abbiamo bisogno di tornare a ragionare in termini di investimenti abbiamo bisogno di ragionare in termini di collegamento tra quelli che sono gli investimenti e lo sviluppo economico e quindi l'ottimizzazione della produzione e quindi la razionalizzazione dei costi ragionare sulla logistica per noi significa ragionare anche su quelle che sono le condizioni che possono dare uno slancio al sistema economico e produttivo dell'Europa possono dare uno slancio al sistema economico e produttivo dei mezzogiorni d'Europa ecco perché noi quest'anno abbiamo voluto ragionare di logistica abbiamo voluto ragionare, avremo delle relazioni su quelle che sono gli orientamenti dell'Unione Europea ma ragioneremo anche su quelle che sono le scelte strategiche a livello mondiale perché la logistica non è soltanto una tecnica o una scienza che mette insieme quelle che sono le leve per la gestione della produzione la gestione efficace e la gestione efficiente della produzione e della distribuzione ma è anche una conseguenza di quelle che sono le scelte a livello strategico e noi avremo delle riflessioni che verranno fatte a livello appunto di strategie che governano il mondo ci sarà il nostro professore Galbraith che ormai è il nostro amico che viene a trovarci per la seconda volta che ci racconterà di questi scenari mondiali ci sarà l'ambasciatore del Marocco Assana Boujoubou che ci racconterà un po' di quelle che sono le strategie nel Mediterraneo ma ragioneremo anche di quelle che sono le prospettive per quanto riguarda l'organizzazione a livello mondiale voi sapete che l'intero pianeta è attraversato da tutta una serie di scelte che mirano a gestire in maniera efficace quella che è appunto la combinazione tra mare, cielo e terra noi abbiamo bisogno quindi di ragionare in termini di sviluppo sostenibile voi sapete, qui noi abbiamo la Siemens che è partner di Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale voi sapete che la Siemens sta ragionando molto sulla sostenibilità in termini di efficientamento energetico voi sapete quanto significhi per i porti che generalmente sono nella pancia delle città gestire e intervenire sulla versante dell'efficientamento energetico gestire tutte quante quelle che sono le questioni proprio della presenza di questi mostri di questi giganti che attraversano il mare che vengono ad approcciare che vengono ad abbordare le nostre città il nostro territorio quindi ragionare di Mediterraneo ragionare di movimentazione delle merci non è fuori dalla logica non è fuori dalla considerazione delle nostre tematiche dello sviluppo del Mediterraneo e dello sviluppo dell'uomo noi abbiamo peraltro bisogno di fare una riflessione sul Mediterraneo abbiamo bisogno di fare una riflessione sui mezzogiorni del Mediterraneo il tema del Sorrento Meeting sono appunto i mezzogiorni del Mediterraneo sono le prospettive di sviluppo delle regioni dei mezzogiorni italiani, dei mezzogiorni europei dei mezzogiorni dell'intero Mediterraneo voi sapete che il Mediterraneo era diventato un mare periferico con le turbolenze con le situazioni di crisi nell'area medio orientale il canale di Suez venne chiuso e il mar Mediterraneo divenne un lago divenne periferia del mondo poi c'è stata una ripresa c'è stato un recupero quindi la riapertura del canale di Suez ha riportato in qualche modo il Mediterraneo al centro delle scelte anche delle grandi compagnie di transshipment perché ovviamente c'è un discorso di natura economica che ha consentito a queste compagnie di rivedere le proprie rotte e quindi di tornare nel Mediterraneo e tuttavia qui c'è il ragionamento che ci riguarda da vicino nel momento in cui si è riaperta la via del Mediterraneo i mezzogiorni del Mediterraneo e l'intero Mediterraneo si è fatto trovare impreparato noi avevamo all'inizio dell'apertura del canale di Suez delle prospezioni delle proiezioni degli analisti che parlavano di circa 100 milioni di teo che sarebbero arrivati nel Mediterraneo poi si cominciò a ragionare di 60-70 milioni di teo che sarebbero circolati nel Mediterraneo siamo poi passati ai 50 milioni oggi stiamo intorno ai 35 milioni di circolazione di merci nel Mediterraneo come vedete da questa slide in realtà è un paradosso ma i porti più importanti del Mediterraneo sono i porti del nord Europa cioè Hamburgo, Anversa, Rotterdam sono i porti più importanti del Mediterraneo allora qui dobbiamo ragionare un attimo e dobbiamo interrogarci sul perché questa situazione è di ritardo questo è il senso del meeting di quest'oggi domani la Fondazione Mezzogiorno Sudorientale presenterà uno studio sulle linee strategiche che tenterà di dare delle indicazioni per rovesciare questa situazione per dire in che termini il Mezzogiorno dell'Europa può diventare protagonista è chiaro che abbiamo bisogno di ragionare in termini di coordinamento abbiamo bisogno di ragionare in termini di connessioni non è sufficiente che ci siano le grandi linee che vengono ad essere aperte all'interno del bacino del Mediterraneo noi dobbiamo ragionare anche in termini di capacità di creare le connessioni se noi non abbiamo delle buone ferrovie se noi non abbiamo una buona capacità di collegare mare, cielo e terra noi saremo sempre perdenti è evidente che i grandi vettori preferiscono arrivare ad Hamburgo preferiscono arrivare al nord Europa perché da lì è più facile scendere con le ferrovie scendere in tutto il resto dell'Europa è molto più difficile attraccare nel sud Europa e poi dal sud Europa salire verso il nord dell'Europa ecco su questo noi ci dobbiamo interrogare dobbiamo chiederci perché tutto questo non è avvenuto e soprattutto dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare perché questo succeda nei prossimi anni perché queste risposte possano essere date nei prossimi anni noi abbiamo anche un'altra questione che dobbiamo affrontare perché non dipende soltanto dalla forza delle cose che si manifesta attraverso la creazione di queste linee che ci portano ad avere il Mediterraneo al centro degli scambi noi dobbiamo stare attenti e lo faremo con l'ammiraglio Ferrante noi dobbiamo stare attenti a quelle che sono le scelte strategiche mondiali guardate non c'è mai una posizione che è acquisita per sempre se voi osservate il mondo si sta attrezzando il capo di Buona Speranza ma tutti quanti e Panama, tutta la media si stanno attrezzando per creare delle condizioni di efficienza delle condizioni di efficacia nel trasporto delle merci e se noi non stiamo attenti il fatto che il Mediterraneo attraverso Suez sia diventato di nuovo un mare importante potrebbe in qualche modo trovare delle ulteriori difficoltà da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di interrogarci e nel meeting di quest'anno vogliamo interrogarci su questo perché interrogarci su quelle che sono le prospettive dei porti le prospettive degli abbi, le prospettive della connessione tra cielo, mare e terra significa domandarsi e darci anche una prospettiva sullo sviluppo dei nostri territori non abbiamo un problema questo territorio il Mezzogiorno d'Italia e tutti i Mezzogiorni d'Europa saranno ciò che il Mediterraneo sarà non è possibile immaginare uno sviluppo del Mezzogiorno d'Italia non è possibile immaginare uno sviluppo dei Mezzogiorni d'Europa se noi non ci interroghiamo che cosa sarà il Mediterraneo nel suo complesso e noi dobbiamo anche ragionare su che cosa il Mezzogiorno d'Italia vuole fare noi ragioneremo domani con le linee strategiche che verranno presentate diremo anche alcune cose su le prospettive del Mezzogiorno d'Italia sia come piattaforma logistica nel Mediterraneo con i suoi hub ma sia anche come grande area di produzione come grande area economica che si propone all'interno del Mediterraneo come un soggetto, come un player fondamentale per gestire il rapporto economico per gestire in termini produttivi in termini anche di sviluppo della capacità produttiva il rapporto con l'interno Mediterraneo quindi due aspetti fondamentali il Mediterraneo come attracco, come punto terminale come passaggio per quanto riguarda il trascipment ma anche il Mediterraneo e il Mezzogiorno come luogo di produzione come luogo in grado di originare ricchezza come luogo in grado di originare sviluppo economico e quindi distribuire e razionalizzare i prodotti all'interno del Mediterraneo questi due aspetti sono fondamentali noi li vedremo domani ma su questo noi dovremo interrogarci ma dovremo anche una volta per tutte convincerci di un fatto questo nostro paese deve darsi un'idea del proprio sviluppo deve dire nel futuro che cosa vuole fare che cosa vuole diventare ecco, la prospettiva di diventare una grande piattaforma logistica a servizio dei grandi traffici di trascipment ma anche a servizio di quelle che sono le capacità del sistema economico e produttivo territoriale di legarsi al sistema economico e produttivo internazionale del Mediterraneo questa è una grande prospettiva che noi riteniamo debba essere offerta al Mezzogiorno d'Italia debba essere offerta al Mediterraneo questo significa anche recuperare alcune idee che sono state un po' abbandonate noi dobbiamo tornare a ragionare in termini di investimenti noi non possiamo immaginare che lo sviluppo possa avvenire senza investimenti e ragionare sugli investimenti significa quando parliamo di logistica le connessioni, le strade, le ferrovie il cielo, gli hub ma significa anche convincerci che non sono soldi che vengono buttati quando si investe l'1% degli investimenti immediatamente procura una ricaduta dello 0,4% ma in termini di prospettiva procura un 4% di crescita del PIB quindi vuoi immaginare che cosa possa significare per il Mediterraneo fare una grande azione di investimento su questo tema e considerato anche che noi ci troviamo davanti alla prospettiva di poter programmare i fondi strutturali europei noi abbiamo un centinaio di miliardi di euro in Italia che dovranno essere spesi nei prossimi sei anni da parte dell'Unione Europea noi riteniamo che se cominciamo a ragionare in termini di investimenti se cominciamo a ragionare in termini di idea dello sviluppo se cominciamo a ragionare in termini di finalizzazione di questi investimenti probabilmente faremo una cosa buona probabilmente ragioneremo per quelle che sono le prospettive nei prossimi anni all'interno di questo territorio ecco noi dobbiamo ragionare in questi termini noi vogliamo offrire questa prospettiva perché siamo convinti come Sorrento Meeting con tutti quanti partner con tutti i soggetti che operano lavorano intorno al Sorrento Meeting che noi dobbiamo lavorare per un grande Mediterraneo questa è la prospettiva lungo la quale noi ci dobbiamo muovere noi abbiamo un'area che è straordinariamente forte dal punto di vista delle prospettive e delle potenzialità e dobbiamo essere convinti noi per primi e dobbiamo convincere poi i governanti e dobbiamo convincere gli altri il Mediterraneo è l'area dei cento paesi è l'area dei mille popoli ma è un'area straordinaria 500 milioni di abitanti 22 paesi 10 mila miliardi di dollari di PIL è un'area che può crescere ad una cifra che va dal 5 al 7% all'anno allora perché noi non dobbiamo proiettarsi in questa in questa dimensione ecco questo è il senso del nostro del nostro mito questo è il senso del contributo che vogliamo dare che il senso del contributo concreto che la fondazione domani con gli studiosi ai quali noi ci siamo affidati darà alla platea darà a tutti coloro che ci ascoltano che sono presenti che partecipano ai nostri voli perché poi alla fine noi riteniamo insomma che dobbiamo tornare a credere in questo Mediterraneo che è il mare dei traffici che è il mare delle migrazioni che è il mare degli scambi culturali degli scambi commerciali è il mare di Roma è il mare di Cartagena è il mare dei Greci è il mare di Simbad il mare di Simbad che ha fatto sognare pur non avendo mai messo piede su una barca ecco noi vorremmo tornare a questo grande mare Mediterraneo noi vorremmo tornare a immaginare per il futuro un grande sviluppo per questo mare la logistica la connessione un saluto al nostro ambasciatore che è arrivato l'ambasciatore Hassan Abouyou quindi tornare a questo grande mare tornare a questa grande prospettiva del Mediterraneo il mezzogiorno d'Italia e il mezzogiorno d'Europa saranno ciò che sarà il Mediterraneo la logistica può aiutare questo Mediterraneo a diventare grande mare grande area di sviluppo grazie grazie a tutti